Buongiorno a tutti e bentornati al nostro appuntamento settimanale con il nostro consulente finanziario Alessandro Romagnolo. Di cosa ci parlerà oggi? Buongiorno, ben ritrovati e buona giornata a tutti. Oggi vorrei provare a parlarvi di ambienti di sostenibilità. Siamo alle ultime battute di questo 2020 e possiamo chiamarlo o l'anno del coronavirus, oppure possiamo fare una riflessione su cosa ci ha insegnato quest'anno. Che cosa in particolare? Ci ha insegnato che noi siamo un tutt'uno con l'ambiente e non siamo noi a dominarlo, ma un piccolissimo ed invisibile virus ci ha dimostrato come siamo noi uomini e donne a dipendere da lui. Confermo. E quindi cosa possiamo o dobbiamo fare? Dobbiamo rimettere al centro l'ambiente, non solo nei nostri pensieri, scelti di vita, ma anche nella nostra economia. Un esempio su tutti. La Cina entro il 2025 farà il più grande investimento della sua storia per ridurre del 70% l'inquinamento da utilizzo di combustibili fossili. Sempre parlando di Cina, dopo l'urbanizzazione selvaggia, tanto che si paventava lo scoppio di una bolla immobiliare cinese, Da 2015 è partito un progetto pilota per convertire aree urbane da sorgenti di inquinamento a vere e proprie città spugna, sempre più verdi ed in armonia con l'ambiente. In pochi anni il concetto di infrastrutture verdi è divenuto la colonna portante per i progetti futuri di quel paese. Ci può dire qualcosa a riguardo? Queste città spugna hanno diversi obiettivi sul fronte ambientale. Assorbire fino al 70% di acqua piovana, scurgiurando inondazioni, riutilizzarla in ambito urbano per zone umidi, zone verdi e giardini pensili, in grado di assorbire a loro volta anidride carbonica negli orti urbani, oltre ad altri utilizzi. A questo proposito vi invito ad andare a curiosare le immagini su qualunque motore di ricerca e cliccare città foresta in Cina. A mio avviso ciò che vedete lo ritengo davvero affascinante. Sì, lei qualcosa ci aveva già accennato, ma quindi tutti noi che cosa possiamo fare concretamente per questo periodo difficile e strano? Tutti noi dobbiamo iniziare a guardare il mondo con occhi diversi, perché, stando a stima abbastanza credibili, entro il 2030 su questo pianeta saremo in circa 9 miliardi, dovendo aumentare la produzione alimentare e sapendo già che 1,8 miliardi di persone vivranno in zone di assoluta scarsità d'acqua. Questo cosa potrebbe comportare per tutti noi? Quali conseguenze? Certamente, come detto, un maggior bisogno di acqua, di energia, di cibo, di sicurezza ambientale, solo per cittarne alcune. Però molti governi hanno colto tutte quante queste tematiche, problematiche. E basti pensare al Green New Deal in Stati Uniti d'America, al Next Generation EU per quanto riguarda l'Europa, o il Medi in Cina 2025, di cui ho accenato poco fa. Ma tutto questo cosa c'entra? Con il suo ruolo di consulente o con i propositi di educazione finanziaria? Domanda decisamente pertinente. Non si deve necessariamente parlare di finanza per comprendere che dalle soluzioni a importanti problemi come questi che abbiamo appena visto, possono nascere vere e proprie opportunità di investimento. Serve però essere informati, consapevolmente informati, per essere poi collegati al futuro. Molto interessante. Ci dica? Pensate, solo parlando di ambiente, quanti temi abbiamo toccato e che magari in prossimo incontro anche avremo modo di approfondire. E questi sono salute, sicurezza, acqua, energia, città del futuro, tecnologia. Tutti i temi che ci accompagneranno, minimo, per i prossimi dieci anni, con ingenti investimenti da parte dei governi, ma anche da parte di aziende che a loro volta investono in temi ambientali e nella sostenibilità. Ed ora vi faccio io una domanda. Non ritenete sia sufficiente per costruirci un portafoglio ben diversificato che guarda il futuro? Eh sì, certamente. Sì, infatti, prima parlavo di consapevolezza e di informazione consapevole. Il ruolo del consulente è proprio quello, cioè informare, portare la giusta informazione ed evitare a molti risparmiatori che in questo momento, che si sentono particolarmente smarriti e a volte subiscono le informazioni, basta vedere oggi il crollo dei mercati, 4%, e di andare incontro a scelte sbagliate o a mode, piuttosto che sfruttare tutti quei temi o alcune delle innovazioni di cui abbiamo parlato oggi. Chiudo citando una frase da me usata più volte nei miei salotti finanziari, alcuni anni fa, presa in prestito da Charles Darwin, il quale diceva non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti. Grazie a tutti per l'attenzione, grazie al nostro consulente finanziario Alessandro Romagnolo e arrivederci al prossimo appuntamento. Buona giornata a tutti, arrivederci a presto e colgo l'occasione per fare a voi gli auguri e a tutti quanti voi auguri, buone feste e buona vita. Grazie. Grazie.